Giornata ricca di spunti interessanti, quella che domani attende le cinque formazioni pugliesi militanti in Serie C. Reduce da un filotto di cinque vittorie consecutive, quattro delle quali conseguite con Fabio Liverani in panchina, la capolista Lecce si appresta a ospitare l'Acragas, fischio d'inizio anticipato alle 14.30 per una gara che i salentini hanno l'obbligo di vincere, non solo per allungare la serie positiva, ma soprattutto per conservare le attuali tre lunghezze di vantaggio sul Catania, l'inseguitrice più immediata, con cui si prospetta un lungo duello al vertice. Alle 14.30 prendere il via anche la sfida tra Paganese e Virtus Francavilla. I brindisini sono chiamati a confermare l'ottimo momento, certificato dai dieci punti raccolti nelle ultime quattro giornate e dal conseguente quarto posto in graduatoria, alla pari con Trapani e Siracusa. Peccato che debbano fare a meno di bomber saraniti, cinque retisi in cui realizzate, costretto a stare fermo tre settimane per via dell'infortunio muscolare rimediato nel precedente match con la Sicula Leonzio. Discorso analogo per il Biceglie, impegnato tra le Muramiche contro il Rende a partire dalle 16.30. Dopo un breve periodo di flessione, il collettivo nero-azzurro si è rimesso in carreggiata, battendo al Gustavo Ventura la Juve Stabia e strappando un prezioso pari in trasferta con l'Acragas. Mister Zavettieri non potrà contare sul difensore senegalese di Allò, appiedato per due turni dal giudice sportivo e in avanti punterà ancora su Jovanovic, rinfrancato dal gol sul rigore di sabato scorso, il suo primo stagionale. Discorso ben diverso invece per la Fidelissandria, che sempre alle 16.30 la scenderà in campo a Reggio Calabria. L'obiettivo in questo caso è guarire da una pareggite cronica che al momento relega la squadra nei bassi fondi della classifica. Ciò significa, al contempo, sfatare il tabù della vittoria numero uno in campionato, accarezzata in più occasioni, ma sempre sfuggita nei minuti finali. Probabile rinuncia a croce per Valeriano Loseto, il centravanti Foggiano. In settimana si è allenato a parte due le alternative per sostituirlo, schierare ancora titolare Scaringella o spostare Lattanzio al centro dell'attacco. Alle 18.30 infine sarà la volta del Monopoli, ospite della Casertana, ora allenata da Luca D'Angelo, ex Fidelis. Passato a Lecce lo scettro del comando e scavalcato pure dal Catania, l'undici allenato da Massimiliano Tangorra intende ristabilire il feeling con la vittoria interrotto nelle ultime tre partite. Per riuscirci si affiderà alla vena realizzativa di Genchi, già autore dei sei gol tra campionato e Coppa Italia, e Paolucci, a segno sei giorni fa contro il Siracusa. Grazie. Grazie.